Tiki, trasformami! Ha! Flag, trasformami! Abbiamo poco tempo. Mi servirà il tuo aiuto per salvare Chat Noir e Chloe. Io? Aiutare te! Zoe Lee, questo è il Miraculous dell'Ape, che ti dona il potere di immobilizzare i tuoi avversari. Dovrai usarlo per il bene superiore. Al tuo servizio, mia regina. Ma Chloe si infurierà. È sempre stata lei, Queen Bee. Ma non saprà mai che sei tu. A differenza sua, tu terrai segreta la tua identità e a missione completata dovrai restituirmi il Miraculous. Non posso farlo. Non sono abbastanza forte. Io... Lo so che ci riuscirai. Devi dire solo una cosa, mia regina. Pollen, trasformami. Pollen, trasformami! Milena. Non sprecare il tuo tempo con me, Ladybug. È tutta colpa mia. Volevo salvare gli alberi e invece per causa mia li stanno sradicando. Se non mi fossi imbischietta non sarebbe successo. Ti sbagli. Tu non sei il problema, tu sei la soluzione. Perché hai delle ottime idee. Milena, prendi. Questo è il Miraculous dell'Ape. No, Ladybug. Non posso essere un supereroe. Io ho paura di tutto. Guarda, ho una spilletta per la paura dell'acqua, una per quella delle api. Serve una collana anche per superare la paura delle spillette. Ti rendi conto di quante paure sei riuscita a superare? Gli oggetti che ti aiutano a superarle sono proprio come i Miraculous. E tu lotti ogni giorno per una causa senza che nessuno se ne accorga. È come avere un'identità segreta. La verità è che tu sei già un supereroe. Ti serve ancora un ultimo oggetto. Milena, prendi. Sono fiera di poterti affidare il Miraculous del topo. Lo userai per un bene superiore. Mollo, questo non è carino. Avere coraggio non significa non avere paura, ma non arrendersi anche se sia spaventati. Devi solo dire una cosa. Mollo, squittisci! Mollo, squittisci! Riuscirete a salvare la mia amica giuletta perché io credo in voi! Sì, ma abbiamo bisogno di più positività. E io so chi potrebbe aiutarci. Rose Lavion, questo è il Miraculous del maiale che ti conferisce il potere dell'esultanza. Dovrai usarlo per il bene supremo. Wow, è davvero bellissimo! Sei così carino! Come ti chiami? Il mio nome è Daisy e sono il tuo Uami. Sarà lui a darti i poteri. Dovrai solo pronunciare la frase Daisy, trasformami! Daisy, trasformami! Chanoir, vorrei presentarti a... Pigella! Stai bene. Giulecca Cufen, questo è il Miraculous della tigre che dà il potere del prestigio. Lo userai per il bene supremo. Facciamo un po' di rumore! Una volta finita la missione, mi restituirai il Miraculous. Posso fidarmi? Sì. Cosa? Non ti sento! Sì! Ancora non ti sento, forza! È tutta la voce che hai! Ho detto... Sì! Ah, così va meglio. Tu e io andremo perfettamente d'accordo. Tutto ciò che devi dire ora è... Roar, trasformami! Roar, trasformami! Eccomi qua! Grazie, Chat Noir! Ehi, gattino! Dovrai lanciarci più in alto che puoi. Ci riesci? Beh, posso provare. Ehi, ciao! Io sono Chat Noir e tu sei? Io sono... Tigre Viola! Tigre Viola? Miau! Praticamente sei di famiglia. Wow! Wow, questo è un weekend davvero super calmo e tranquillo, Superbug. Avevi ragione, Trix. Ah, visto. Superbug non va bene, mi serve un altro nome. Tiki? Trasformami! Resta connesso, Robostus! Bugalady sta arrivando! Bugalady è carino, no? Potevi fare meglio. Nasconditi, Chat Noir, non deve vederti. Libera come il vento! Giusta come la giustizia! Infinita come l'immaginazione! Io sono Lady Luck! No, è da perdenti. E io sono... Io sono Lady... Non sei Lady Bug! Chat Noir! Scusa, da quanto tempo sei qui? Da un bel po'. E hai ragione, è da perdenti. Ma non è il peggiore dei tuoi problemi, perché c'è una sola Lady Bug e significa che tu non sei altro che un sentimostro o un cattivo occupizzato. Oh, aspetta, non sono un cattivo, lo giuro. Bugiarda, che cosa hai fatto a Miletri? Oh, non è come pensi, ho il suo permesso. Non l'avrebbe mai fatto senza dirmelo. Cataclisma! Lucky Charm! Se fossi un super cattivo, prenderei il tuo Miraculous, ma non lo farò perché io in verità sono... La Baghetto! Perché avrebbe dato il suo Miraculous a te? Perché mi conosce e si fida. E perché pensava che mi avresti fatto ridere. Perché a te? Va bene, ti credo, ma cambia nome, ok? Sì! Veloce come un lampo! Forte come un tornado! Coraggiosa come un puma! Io sono... Scarabella! Sabrina Rencomprì, questo è il Miraculous del cane, che ti conferisce il potere di prendere e riportare qualunque cosa la tua palla abbia toccato. Mi dispiace, ma non posso fare questo a Chloe! Quella lì non è Chloe, è Penal Team. Non vuoi liberarla? Se questo salverà Chloe, allora sì! E poi io! Adoro il calcio! Ciao, io sono Mark e sono il tuo Kwami! Ladybug, io non sono così bravo a giocare a calcio, io... Io... Sei troppo duro con te stesso. Hai più talento di quanto immagini. Ciao, io sono Rinko! Giochiamo! Io sono un lusingato, Ladybug, ma non mi sento a mio agio a far parte di una squadra. Davvero? Non sei tu che lavori con uno scrittore per creare i fumetti di Ladybug? Lo userai per il bene superiore e me lo restituirai a missione completata. Posso fidarmi di te? Ciao, sono il tuo Kwami, Ziggy! Posso fidarmi di te? Ciao, sono Stomp, aggiungiamo un po' di muscoli a questa partita. E se facessi male a qualcuno mentre uso i miei poteri? Va bene stare attenti, Van, ma ricorda, sei in una squadra di supereroi che affronta dei super cattivi. Nessuno si farà male. In balia di se stesso, Chat Noir sembra sfinito. Le continue pallonate hanno trasformato l'audace pedino in cibo per gatti. Non è più uno sport, è maltrattamento di animali! Non te la sei cavata così male, gattino? Ladybug è tornata! Ed ecco il gruppo scelto per questo match decisivo. Ladybug resta fedele al suo classico schieramento. Carapace, Pegasus, Ultimaus, Monkey King, Tigra Viola, Pigella, Vesperia, Vipenion, Ryuko! Ma ci sono anche quattro nuovi acquisti di cui non conosco i nomi. Mi seguito! Rooster Bold! Capricid! Minotauro! Blah, 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 blah! Ok, perdente, avete finito? Hai un piano per mettere le zampe sull'oggetto accomizzato? Lo otterremo quando vinceremo. E se non vincessi? Conosco i segreti di questo gioco. Chi sei? Oh, sono io, Ladybug! O meglio, Ladybug con un po' più di poteri. Pennybug! Aspetta! Non ce l'hai! Adrian, mi serve il tuo aiuto. Devo trovare un oggetto. Ma il tuo Yoyote dà accesso diretto a tutti i Miraculous? Quelli nella Miracle Box, sì! È una scorciatoia magica! Wow! Adriana Grest, questo è il Miraculous del cane, che ti darà il potere di individuare e riportare tutto ciò che la tua palla ha toccato. Lo userai per il bene supremo e poi me lo restituirai. Posso fidarmi? Se dubiti di te stesso, provarci è l'unico modo che ti serve per prendere confidenza. Ciao, sono Bark, il cuomi dell'adorazione. Ho un nuovo possessore, tu e io possiamo giocare a palla. Devi solo dire, Bark, trasformami! Con piacere. Bark, trasformami! Grazie a tutti!